Sono cinque le corse veloci che collegheranno, impiegando la metà del tempo attuale, l'aeroporto Falcone Borsellino e la stazione centrale di Palermo, con una sola fermata intermedia a Notar Bartolo. Inoltre si aggiungerà un ulteriore sesto collegamento che effettuerà anche tutte le altre fermate. E' il nuovo servizio Genio Express, finanziato con oltre un milione di euro dalla regione siciliana, che è stato presentato insieme a Trenitalia nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nello scalo palermitano gestito dalla GESAP. Sono intervenuti il presidente della regione siciliana Renato Schifani, l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Arricò, l'assessore al turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola, il vice sindaco di Palermo Carolina Varchi, l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi, il presidente della GESAP Salvatore Burrafato e l'amministratore delegato della società di gestione del Falcone Borsellino Vito Riggio. Sono stati introdotti complessivamente sei nuovi collegamenti tra Palermo Centrale e Punta Raisi, cinque veloci che avranno un tempo di viaggio tra i 34 e i 36 minuti rispetto a quello di un'ora del servizio standard. È un collegamento aggiuntivo che effettuerà tutte le fermate intermedie. Nei festivi saranno garantiti complessivamente sei collegamenti di tipo veloce. L'attivazione del Genio Express è un fondamentale passo in avanti, ha dichiarato il presidente della regione siciliana Renato Schifani, verso quella mobilità veloce di cui hanno bisogno una grande città come Palermo e il suo aeroporto per raggiungere una reale integrazione nei collegamenti. Per la prima volta, ha continuato l'assessore Aricò, con il Genio Express avremo un collegamento diretto tra la quinta città d'Italia e l'aeroporto Falcone Borsellino, mentre per l'assessore Amata una delle priorità del governo regionale è sempre stata quella dei collegamenti sia quelli da e per la Sicilia che quelli interni. C'è il dovere di fornire alle migliaia di turisti che arrivano in Sicilia servizi ottimali. Questo lo possiamo fare lavorando in squadra non soltanto come governo, ma anche con gli amministratori locali. Sono complessivamente 79 i treni in servizio tra Palermo e Punta Raisi che viaggiano lungo il percorso ferroviario. Dopo la conferenza stampa, inoltre, è stato svelato anche il logo del Genio Express.